bravo bravo va benissimo il manicomio dopo te la voglia e ti assa la ragione come li fatti a un palo passeggio aria sono contento dannaccia dopo basta che non ho finito ma l'ha cucinato mamma sta roba ha fatto ruffolo la cucinato io ti piace insomma mi dà pure come ti pensa non mangiare la pancura è un bel pazzo non vedi che è pazzo mangiate pure le zucchine no non me l'hanno non me l'hanno buongiorno signor preghi i suoi amici erano alla prigione ricercato non sono alla prigione vediamo meglio quello che succede stanno seduti qui che dovrai vedere dobbiamo fare in che senso beh comprendi i suoi amici non fate niente mi chiamo randall break lo so già chi siete dobbiamo parlare l'unica cosa che dovete fare è dirmi dove c'è su questo non posso aiutare vedo che il giovanotto ha un gran bel fucile cari bro ottima idea sparpagliarmi così è vero voi bevete scelifo no il signor cari bro lato la giu il signore vuoi bevete è difficile ma non impossibile ma vedremo avete ucciso tre miei in effetti ne ha uccisi solo il punto è che i miei uomini vengono qui e poi li ammazza posso capire quindi una soluzione dobbiamo trovare un elenco di leggi locali appeso ben in vista fuori dalla porta in questo saluto se i vostri ragazzi faranno quello che dicono le leggi andrà tutto molto bene adesso non lo fanno li arresto adesso non si fanno arrestare gli spara o gli spara il signore questa è la legge la vostra hai lasciato la porta spalancata del portone vada a chiude Fabio capito? hai capito? forse non siete così bravo è venuta buona il pollo è vero? è venuta buona come le zucchine non te le mangi perché? non ti vanno no forse ora non è il momento devi andare a chiudere il portone capito? non ti vede il momento con la mano domani mettere le robe forse non avete avuto il tempo di informazione ma è illegale devi portare quella roba di sopra capito? eh? la roba di sopra capito Fabio? voi siete decisamente un nuovo interessante andiamo il signor Ancola fa questo lavoro da parecchio tempo signor Osin oh grazie buona giornata buona giornata a voi buona giornata 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 buona giornata